Si è tornata a parlare in questi giorni della riforma della geografia giudiziaria e della chiusura di alcuni tribunali, tra i quali quello di Sala Consilina. Lo scorso 7 dicembre si è tenuta a Roma l'Assemblea del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, l'organismo rappresentativo dei territori già sedi degli uffici giudiziari soppressi, costituitosi proprio per invertire la marcia della riforma e ottenere la restituzione dei presidi di giustizia. All'Assemblea era presente anche la consulta delle amministratrici del Vallo di Diano, con espressa delega della Presidente, l'Avvocata Gaetane Esposito, all'Avvocata Elisabetta Giordano, che è membro del Coordinamento Nazionale. Al centro dell'incontro a Roma la scarsa attenzione del Governo sul tema. Ad oggi, dicono dal Coordinamento, il Governo non ha posto mano all'attuazione di quanto previsto nel contratto di Governo, dove è stabilito il ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Il Coordinamento Nazionale però non molla e insiste nella ricerca di interlocuzioni con il Governo, come quella di oggi al Senato. Il Presidente della Commissione Giustizia, infatti, ha indetto un'audizione con tutti i riferimenti territoriali e istituzionali impegnati nella battaglia. Mentre il Coordinamento insiste affinché il Governo del Cambiamento assuma atti immediati per il ripristino dei tribunali soppressi, la consulta delle amministratrici locale fa sua la battaglia e invita tutti i cittadini a condividere e sostenere la lotta per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina e a partecipare attivamente nella difesa del territorio.